Arriva il risultato e anche la prestazione. Con un 3-0 di prepotenza, il GSA si sbarazza del Wessica a Vellino sul parquet del Palacardito. Stavolta Mr. Keka prepara la partita a perfezione, studia le avversarie e manda in campo una squadra perfetta. Le atlete, dal canto loro, non sbagliano quasi nulla, ridugono gli errori al minimo e sotto rete alzano un muro quasi insuperabile. Quanto a carattere, la squadra di Ariano è sembrata davvero concentrata ed in poche circostanze ha lasciato spazio a distrazioni. Ora la salvezza è più vicina, è certa se retrocederà solo l'ultima. Il GSA allunga sul fanalino di coda Airola e scavalca di un punto la partenope, contro la quale sarà impegnata nell'ultima di campionato settimana prossima al Palacardito. Tornando alla gara contro il Wessica, il sestetto rosa di Mr. Rosario Keka parte un po' contratto e si trova ad inseguire sull'8-6 al primo temout tecnico. A ritorno in campo, la squadra cambia carattere e comincia a giocare. Trova il pareggio sul 12-12 e poi mette la freccia per il sorpasso. Gli ottimi turni di servizio di Santosusso e De Pasquale facilitano il tutto e sul tabellone si legge 18-13 GSA. Il Wessica non riesce a controbattere e deve esurbire un parziale di 7-3 per il 25-16 finale. Nel secondo set la musica non cambia, è sempre GSA a fare la partita. Nelle due pause forzate gli arianesi sono avanti 8-5-16-9. L'allungo decisivo porta alla conquista del secondo parziale per 25-15. L'ultimo tempo è quello in cui il Wessica prova a stare in partita approfittato di un piccolo calo delle locali. Il set è combattuto ma alla fine sembra i GSA a timbrare il cartellino. Un 3-0 netto contro una squadra che in classifica vantava 22 punti contro i 7 delle arianesi. Ora spazio all'ultima di campionato, ancora in casa propria. Potrebbe essere l'occasione giusta per festeggiare la salvezza.